Nei cinema grande successo per un film italiano, Non si ruba a casa dei ladri di Carlo Vanzina, una produzione Medusa Film. Ieri ha ottenuto il primo incasso tra tutti i titoli italiani con 427 mila euro e in quattro giorni ha già raggiunto un box office di quasi 900 mila euro. Un ritorno felice per Carlo Vanzina con una storia divertente interpretata da Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuel Arcuri che continua la tradizione della commedia italiana legata all'attualità e alla vita della società. Ci fermiamo pochi istanti e rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti.